A partire dal lungomare per migliorare la sicurezza delle strade urbane ha preso il via oggi l'installazione di dossi rialzati nei luoghi a maggior rischio di incidenti per i pedoni, interventi resi necessari e disposti con urgenza dall'amministrazione cittadina alla luce dei numerosi e tragici investimenti che si sono verificati negli ultimi tempi. Coordinati dagli assessorati ai trasporti e alla legalità i lavori realizzati da ANM sono iniziati da Piazza San Nazaro con il posizionamento del primo passaggio pedonale rialzato e proseguiranno nei prossimi giorni con nuove strisce in via Caracciolo all'altezza degli Aliscafi e dell'Acquario ed in via Antondorn. Ulteriori dossi saranno sistemati anche a Corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa e al Corso Malta. Abbiamo insieme all'assessore Cosenza abbiamo pianificato, finanziato una serie di misure come questi dossi che rendono meno sostenibile la forte velocità da parte di motocicli, da parte di autovetture e in prospettiva noi saremo sempre attenti sulla base del database del nostro ufficio incidenti che è un database di tutte le strade della città per capire anche sulla base statistica quali sono le aree e i siti che meritano l'adozione di misure di questo genere. Per adesso il progetto entro due settimane si completerà nella zona di Mergellina e dà anche, se possibile, un ristoro a tante famiglie di residenti che hanno sempre manifestato e sollecitato l'amministrazione ad adottare dei provvedimenti.